Salve a tutti, io sono TheLongGamer e bentornati su Little Nightmares 2. Se pensavate che il primo boss fosse spaventoso, preparatevi a conoscere la maestra. Inquietante donna col collo lunghissimo che ci darà la caccia mentre ci aggiriamo per la scuola, piena di bambole animate che ci attaccheranno a vista. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Eravamo appena arrivati alla scuola! E la signora che vedete laggiù è la maestra. Allora, dovrebbe essere effettivamente la signora che si aggira per i corridoi di questa scuola e sarà, penso effettivamente, il boss che dovremo affrontare. Allora, prima di iniziare questo episodio, faccio una piccola premessa perché nei commenti della scorsa puntata ho visto una disinformazione veramente incredibile. Allora, il nostro protagonista si chiama Mono. E no, non è il ragazzino del DLC di Little Nightmare 1, che non si chiamava Seven, ma si chiamava TheRunawayKid. Amichevolmente i giocatori lo hanno chiamato Seven, ma non è mai e poi mai stato il suo nome. E ribadisco, no, non è il protagonista del DLC. Mentre invece, sì, la ragazzina qui in parte a me è Six, dice sì, la protagonista di Little Nightmare 1, ok? Perché qualcuno ha detto, no, ma non è Six, è un altro personaggio. No, ragazzi, le informazioni che vi ho dato allo scorso episodio sono corrette perché quando una casa di sviluppo mi invia un gioco, mi inviano anche un documento che contiene tutte le informazioni al relativo gioco, ok? Bando alle ciance, vediamo quindi di andare avanti ed esploriamo la scuola. Uh, ho trovato una palla! Ci sono rimasto malissimo! Ok! A quanto pare in questa scuola ci sono le trappole! Chi poi ha messo le trappole in corridoio? Chiamate il bidello, ma è pericolosissimo, Six! Spostati di lì, porca di quelli per porca! Oh mio Dio! Cioè, no, non è una bambina! È una statuina o una bambola a forma di bambina! Aspetta un secondo, adesso ho paura che ci siano trappole dovunque! Ah, ah, ah! Guardate bene, questa tavola è sollevata! Quindi se io ci passo in parte... Vediamo un po'... Oh! Questa... Oh, era doppia! Era doppia, porca di quelli per porca! Per fortuna che ero da questo lato! Sì, 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 hanno riempito la zona di trappole! E ci sono dei bambini strani! Guardatela! La vedete la bambina laggiù? Ma non sembrano umani, sembrano davvero delle bambole! Ok, proviamo ad entrare in questa stanza... Vediamo un po'... Oh! Basta con i jumpscare, porco cane! No! Mi hanno bloccato il passaggio! Allora, se ho visto bene, sembravano effettivamente delle bambole o gente che ha un costume fatto a mo' di bambola! Ok, facciamo molta attenzione! No, 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 no! Uuuuuh, ok! Ok, ragazzi! Ne possiamo parlare da persone civili, porca di quelli per porca! Ok, dobbiamo andare di qua! Dimmi che quei cavolo di bambini non mi attaccheranno all'improvviso! Ho trovato una paperella strana, occhio! Non si sta attivando la trappola tuttavia! Oh! Oh! Mi sono abbassato in tempo! Intanto c'è un ragazzino là sulla destra! Ho notato all'ultimo che c'erano i segni qua sulla... Sulla trave, lì come cavolo si chiama! Oh mio Dio! Cosa sta accadendo in questo posto? Ok, ok! Lon, mantieni la calma! Mantieni la calma? Mi sto caccando sotto io, ma vabbè, dettagli! Ciao ragazzi! Come va? Tutto bene? Se esce qualcuno da quella porta io piango tantissimo! Ok, Six! Stammi dietro casomai! No! Signore! Buongiorno! Salve! Posso parlarle di nostro signore telone? Oh! Va che fortuna! C'è un martello là davanti! Oh porco cane! Oh no! Oh no! Sono morto? No! Mi hanno intrappolato! Six! Six corri! Scappa dalle bambole! Scappa da quelle cavolo di bambole! Oh no! Oh no! No! Rappita! No! Dobbiamo salvarla assolutamente! Ma stiamo scherzando? Cosa sta accadendo qua? Mono? Mono ce la fai uscire da lì? Dai! 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 Ok! Bravo ragazzino! Ah! Ah! Sì ma troppo panico e troppo ansia! Dove voi hanno portato Six? Oh no! Bastardi! Prendetevela con uno della vostra taglia! Ok vabbè più o meno sono anch'io della loro taglia! Vabbè dettagli! Ok! Ok! Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla! E per salvarla! Oh! Siamo di nuovo da soli! Ok! Il lato positivo è che abbiamo un martello con cui difenderci! Ma presumo che ne dovremo affrontare parecchi! Ciao ragazzino! Kinder! Sorpresa! Oh! Vedi che domattina ti rialzi con un brutto mal di testa? Ok! Teniamo gli occhi aperti perché potrebbero spuntare da un momento a quell'altro! Oh! C'è una tavola brutta davanti a me! Aspetta un attimo! Forse possiamo utilizzare le trappole contro di lui! Vediamo di attirare la sua attenzione! Eh ragazzino! Vieni a giocare con me! Ci manca il pirla! Ha funzionato anche troppo bene! Oh! Perfetto! Possiamo usare le trappole contro di loro! Oh! Dio! Stava vivisezionando una rana! Ah! Sì! È vero! Nelle scuole americane sapete molto bene che durante le lezioni di chimica ti fanno vivisezionare le rane! Oh! Dio! Che schifo! Oh! Il problema è che ho dovuto lasciare di là il martello! Oh! No! Allora qui abbiamo un ascensore! Tuttavia ci manca la chiave per aprirlo! Oh no! Oh ragazzi! Quella è la maestra! Cerchiamo! Oh! Di non farci vedere dalla signora! Marrone! No! Non ho fatto niente! Non ho fatto nulla! Non ho fatto nulla! Giuro! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! No! 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 Non so dove scappare! E quanto sono veloci! No! Ma inquietantissima sta cosa! No! Ah! No! No! Non compro niente! Ah! Mi bullizzano! Chiamate il preside! Ok! Tentativo numero due! Questa volta proviamo a non farci vedere dalla maestra! Vai! Vai! Prima che si giri di nuovo! Ok! Esci! Esci dall'aula! Esci dall'aula! Ok! Dovrei essere al sicuro qui dentro! Oh! Mi sono preso uno spavento assurdo ragazzi! Allora! C'è effettivamente una chiave là sopra! Occhio! Mano! Ah! Oh! Ok! Dobbiamo trovare un altro modo per recuperare la suddetta chiave! Ah! Mio Dio! Gioco! Stai tentando di uccidermi davvero in troppi modi! Ok! Tentativo numero due! Questa volta salta! Salta! Perfetto! E allontanati! Oh! No! 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 Nasconditi qua! Nasconditi qua! Perché... Temevo che effettivamente la maestra ci avrebbe sentito! Salve maestra! Non è successo nulla! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! 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 Assolutamente no! Ma stiamo scherzando? No ragazzi! Io spengo qua il video! No! 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 Questa è una cosa inquietantissima! Oh! La maestra può allungare il collo! No! Vi giuro! Mi è salito uno schifume assurdo! Ok! Ragazzino! Prendi la chiave intanto! Oh! Ho i brividi! Vi giuro! Ho i brividi lungo tutto il corpo! Oh! Questa cosa mi perseguiterà nei miei incubi! Oh oh! Piano! Mono! Mono! Non farti vedere la maestra è proprio quel parte! Ed è anche una signorina molto esigente! Incacchiata con la vita! Ha la faccia stranissima! Iiii! Ok! Facciamo molta attenzione a non farci vedere! Sta passando da un banco all'altro! Mono! Vai molto piano! Perfetto! Teniamola sotto controllo! Ok! Fintanto che non ci vede dovremmo essere a posto! No! Non torturi il povero bambino! È un bravo studente lui! Aia! Questo invece no eh! Questo invece lo punirei! C'ha la faccia da discolo! Dicevo per dire! Signora dicevo per dire! Ok! In modo tale che io posso cercare di uscire! In teoria i bambini non dovrebbero dare l'allarme! Ok! E Mono! Mono non ti vedo dove buio sei! Ragazzino! Oh! Ha sentito qualcosa! Ha sentito qualcosa! Mono corri! Mono corri! Oh no no! No 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 no! Ok! Corri! Corri! Corri tantissimo! Ok! Inserisci la chiave! Mono! Inserisci la chiave! Inserisci la chiave veloce! Veloce veloce veloce! Oh! 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 Stanno arrivando anche i bambini! Oh no no no! Non potete farmi prendersi i colpi! Io non avrei mai pensato che Little Nightmare 2 sarebbe stato più terrificante del primo! Uno dei nani? Bah! Aspetta! È troppo grande per essere uno dei nani! Cosa sta accadendo? Salve signore! Come va? Tutto bene? Aspetta! No no no! È uno dei ragazzini! È uno dei ragazzini? Oh! Perfetto! Facciamo molta attenzione! Gli hanno messo quindi il cappello d'asino! Ok! Dobbiamo correre da quest'altra parte! Aiuto! 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 Ok! Devo prendere il bastone! Prima che si rialzi! Mono! 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 Prendi il bastone! Perfetto! No! Stai buono! Pessimo tempismo! Ok! Tentativo numero 2! Questa volta calcoliamo meglio i tempi! Perfetto! È morto? Più morto! Colpiamolo un'altra volta! Si sa mai! Prevenire è meglio che curare! Oh mio Dio! Lo hanno legato! No! Vabbè! Probabilmente perché era stato un discolo! Ok! Cerchiamo di farci strada attraverso la porta! In teoria non dovevano anche ucciderlo! Se vogliamo essere onesti! Ma diciamo che è stata per legittima difesa! Sì! Guarda! Era pieno zeppo di cappelli! Oppure i bambini facevano parte del Ku Klux Klan! Ma vabbè! Dettagli! Ok! A posto! E fuori di qua! Io ragazzi ve lo giuro! Questa notte non andrò a dormire! Per paura di vedere nei miei incubi la maestra! Oh! Siamo sopra l'aula! Siamo sopra l'aula! Ciccio corri! Ciccio corri! Nasconditi qua sotto! Nasconditi qua sotto! Non mi direi che sta arrivando su col collo! Oh mio Dio! No vi giuro è troppo terrificante sta cosa! No! Ma quanto lo può allungare signora? Ok! Non era una frase che mi sarei aspettato di dire nella mia vita? Ma vabbè dettagli! Ok! Evitiamo quindi di far rumore! Ciccio prendi il barattolo! Così evitiamo che cada di nuovo! Ok! Appoggialo con molta delicatezza! Non rotolare di sotto! Ora dobbiamo salire qui! Perfetto! Ah no! Dobbiamo andare al piano superiore! Uh! Sembra che stia ancora percuotendo i poveri studenti! Beh! Fin qua sopra non penso possa arrivare! Appena caleremo la tavola per andare dall'altra parte sicuramente lei ci sente! Corri! Corri! Sì! Ci ha sentito! Ci ha sentito! Ci ha sentito! Ci ha sentito! Vai! 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 Nasconditi qua dentro! E vabbè! E che c'ha! 8 metri di collo sta donna! Signora! Dove lo ha nascosto il collo? Perché non ci sta dentro il suo corpo! Peraltro ha un'espressione con gli occhi quasi vitrei e morti che è qualcosa di inquietantissimo! Ok! Cioè fino adesso di esseri viventi in senso stretto abbiamo incontrato il cacciatore e la maestra e nessun altro perché i bambini fanno parte di qualche strano incantesimo! Oh ma ho i dettagli! Ok! Oh! Qua dovremmo essere al sicuro me lo auguro! Ammetto un plauso agli sviluppatori perché stavolta sono riusciti davvero a rendere il gioco ancora più inquietante di prima! Oh! Ho il peggio incubionno! Oh no! Siamo in biblioteca e giustamente è entrata anche lei! Piano ciccio! Evitiamo di farci notare! Ok! Allora da qui non mi pare che si passi! Aspetta aspetta aspetta! C'è quella scaletta che normalmente si può utilizzare per raggiungere i piani più alti! Vediamo se riusciamo a spostarla! In teoria! Sì! Perfetto! Aspetta un attimo! Credo che quella lassù sia una delle maschere di mono! Ah! Ho rimesso il sacchetto perché nei commenti la gente si è lamentata pure delle maschere! Quindi mi sono un po' rotto le scatole! E quindi magari l'equipaggio per un minuto e mezzo! E poi gli rimetto il sacchetto! Giusto per vedere cosa... Anzi le maschere! Vabbè i cappelli ci siano capiti! Questo è fatto da un barattolo! Vediamo un po'! Ah! Povero piccolo mono! Tornando a noi! Adesso spostiamo tutta la scala verso destra! Perfetto! E in teoria dovrei poter raggiungere la zona più alta! Sì! No! Sento il suo respiro inquietantissimo! Piano! Oh no 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 no! No 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 no! Signora! Signora! Oh! Oh! Mai più! Mai più! Mai più! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto! Oh! 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 Ok! 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 Io non ci gioco più a Little Nimer! Io vi giuro ragazzi non ci gioco ma poco più nella vita! Allora dobbiamo ovviamente saltare dall'altra parte! Chi è che ha riordinato i libri in sto modo? Oh no! E' proprio lì in parte! Ah! Sicuramente sta per sentire! Oh! 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 Sì! Ci ha sentito! No 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 no! Ma voi siete scemi nel cervello! Aspetta! Aspetta! Guarda! Lo sapevo che faceva il giro! Signora la prego la smetta! No 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 no! No no no! Il peggio incubi! Mi fa troppo schifo sta cosa ragazzi! Ok! No! No! Signora che fa? Signora metta via quel collo! Non faccia follie! Ti prego dimmi che siamo sicuri! Ok! Se ne sta andando per fortuna! Dimmi che esce dalla stanza! Peraltro cammina in maniera abbastanza strana! Come anche lei non fosse umana Oddio fosse anche lei un manichino o altro Ok allora vediamo di saltare dall'altra parte Ok Se non torna indietro dovremmo essere al sicuro Mai più gioco Ti lo chiedo per favore Mai più Allora vediamo se riusciamo ad aprire la porta No purtroppo siamo troppo bassini Allora in teoria possiamo tranquillamente spostare questa cassa Che pesa un botto In modo tale da avere Un supporto su cui poter Salire perfetto Vediamo di non far boiate e Perché la stiamo seguendo peraltro Vabbè in teoria non penso sia proprio qua dietro No sembra tutto tranquillo La cosa strana è che la maggior parte dei bidoni Sono stati incendiati recentemente Mi sa che siamo arrivati Nella hall principale dell'edificio Sì così pare Ribadisco che questa zona è stata abbandonata Parecchio tempo fa Guarda che roba parte dei libri sono stati bruciati Allora ci serve ovviamente la classica chiave Per aprire Quel lucchetto Ovviamente si troverà Ai piani superiori Ok diamo un'occhiata Qua a sinistra Ma non mi pare ci sia nulla di Oh utile Buongiorno Voi là Ok Che strano Un altro di questi spiriti Più che altro sembra che stiano entrando nel nostro corpo Ma vabbè dettagli Ok la signora non è in zona Altrimenti sarebbe arrivata qua correndo Che poi nonostante io non vada a scuola da tantissimo tempo Perché sono un adulto ovviamente Ogni tanto ancora gli incubi scolastici Ma dopo aver giocato a Little Nightmare 2 Mi sa che li avrò per tanto tempo Aspetta un attimo Ah questa è la parte sopra della torre degli scacchi Adesso ho visto che c'era un pedone là davanti E praticamente noi dobbiamo salirci sopra E mono se vuoi salirci sopra Perfetto in modo tale Da poter aprire la porta E voilà Buongiorno Ho visto un bambino per una frazione di secondo Oh Questa è una cosa abbastanza inquietante Credo che abbiano trafitto la testa del bambino Col pezzo degli scacchi Ok Ehi là Lassopra c'è la Credo sia la testa della regina o dell'alfiere No dovrebbe essere l'alfiere quello là Vediamo un po' Oh mio dio Di nuovo il simbolo dell'occhio Aspetta c'è qualcosa dietro Aha Allora L'alfiere va messo sotto In alto a sinistra la regina E in alto a destra invece la torre Sembra che qualcuno abbia deturpato probabilmente il quadro Ah è probabilmente stato quel bambino che abbiamo appena visto Allora devo recuperare innanzitutto la testa della regina Perfetto che possiamo rimuovere da qui E la dovremmo mettere qua sopra Tuttavia datemi un secondo Per adesso la appoggiamo qui Perché recupero la parte alta della torre In modo tale da usarla ancora una volta come scaletta Altrimenti non so come raggiungere il tavolo Che vedete in alto a sinistra Aspetta un secondo Vai Ok Teoria corretta E abbiamo Oh Anche l'ultima parte che ci serviva Non capisco come in Little Nightmare Che ok c'è la magia ma non dico di no Dicevo come mai su Little Nightmare Ci sono questi meccanismi Che normalmente non avrebbero senso nella vita vera Ok dimmi che non ho fatto errori E ok Uila Se notate bene inoltre Proviene una strana luce Da sotto quella libreria Che ha le ruote Mi sa che stiamo per scoprire un passaggio segreto Che forse si attiva Con la lampada Vediamo un po' Tada Teoria corretta Oh Non mi aspettavo di trovarci la chiave Probabilmente è qua dietro che i bambini Venivano messi in castigo Si ma è inquietantissima sta cosa Mono recupera la chiave Perfetto Sperando che nessuno ci insegua Io direi di tornare di sotto La mia teoria è che molto probabilmente La maestra sia la creatura Non morire Ok siamo ancora vivi Che ha effettivamente evocato questi bambini Probabilmente è rimasta da sola E impazzita In qualche modo tramite della magia oscura O fai a sapere con cosa Ha creato dei bambini utilizzando le bambole Via dicendo Uila Sento dei rumori fortissimi Credo che ci stiamo probabilmente avvicinando alla mensa In effetti c'è un passaggio là sopra Mi sa che dobbiamo usare questo carrellino Per effettivamente arrivarci Ottimo Dovrebbe essere abbastanza vicino La cosa inquietante È che sento decine di bambini È una mia impressione Sento davvero un sacco di rumori Oh 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 no 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 L'ultima volta che siamo entrati nelle cucine Non è andata a finire bene C'è un bambino che sta Che sta facendo? Sta giocando con una salsiccia sul pavimento Ok cerchiamo di raggiungerlo senza farci notare Mono vediamo di stare bassi Recuperiamo il mestolo Perfetto Gli facciamo un bel kinder Sorpresa Olè a posto Oh non era l'unico Oh no 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 Fermo 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 Cerchiamo di attaccarli tutti Prima che ci facciano fuori Vai così Perfetto Ce n'è un altro lassù Boni 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 Oh Oh gli ho tolto la testa Perfetto È stato molto ma molto inquietante ragazzi Mai più Oh mio dio Ragazzi Cosa sta accadendo laggiù? È pieno zeppo di bambini? No se io passo mi vedono tantissimo Aspetta un attimo Non mi dire che forse possiamo indossare Oh la testa del ragazzino Come se fosse una maschera Ok Mono Fai molta attenzione ragazzo mio Se ti cade è finita Oh mio dio Sono dovunque Oh no Oh no Guarda che casino che stanno facendo Sì ma questi sono fuori di testa No 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 Porco cane mi è quasi caduta la maschera Ok dobbiamo stare lontani da tutti loro Altrimenti ci colpiscono Noo Siamo nella tana del nemico Oddio Alcuni hanno la testa spaccata Ma non si sa perché Stanno continuando a esistere Occhio Occhio che non ti arrivi un calcione Mono No Ho visto bastardo Rischiavo che mi distruggesse la testa Arriviamo fuori dalla porta E oh Porco cane mi hanno tirato una patata E non in senso buono E dovremmo essere sicuro No Non è finita Fai attenzione Guarda Lì si bullizzano tra di loro E' come se fossero dei veri e propri bambini No Ok non fatti spintonare Mono Giocano al salto della corda Mamma mia Cosa avete creato in sto po Sto No 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 Ok Ok non mi ero accorto di quel bambino Mi sono temporaneamente distratto Oddio Oddio Non mi direi che stacca la luce quello Ok dovremmo essere fuori Ti prego dimmi che siamo fuori E Ole Ok Dobbiamo procedere senza Mono tira fuori il tuo cappellino E tanti saluti Ammetto questo qua Non è che gli stia male Allora abbiamo un pulsante da premere E nulla da tirare purtroppo Potrei provare a utilizzare sto vaso Ma è abbastanza ovvio Che sia troppo pesante Io ci provo comunque Vai Ci ero quasi riuscito Per un secondo la speranza Ok allora proviamo a scalarci Tutto sto popò di mobili Beh ragazzi vi giuro La sezione precedente È stata veramente incredibile Un plauso davvero alla casa di sviluppo No 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 Lascia quel cavolo di vaso Io stavo cercando di salire Ok evitiamo di volare di sotto Che lo eviterei molto volentieri C'è un vaso con un cervello Ok forse quello Potrebbe fare a casa nostra Oddio non mi direi che stiamo andando nell'aula di scienza Adesso ho visto bene Ci sono parti del corpo letteralmente dovunque Cicciotto butta di sotto quello Perfetto E noi in teoria Possiamo tornare giù così Molto più facile scendere che salire Quanto è poco ma sicuro Ah buongiorno Scusate Ho perso un pezzo di cervello È tutto slime Che schifo Vai Ok Ce l'abbiamo fatta Lasciamo lì il pezzo di cervello Non per Porco cane Ho fatto un salto sulla sedia assurdo È tornata la maestra Che bello Signora Lei gestisce anche l'aula di scienza Eh a quanto pare Oddio che sta facendo Sta mettendo via le rane morte Ah Ok Meglio chiuderle Si sa mai che fuggano dal vasetto Signora Ok Dobbiamo trovare un modo per andarcene da qua Il problema è che la porta è chiusa Ok Che faccio Proviamo andare dalla Ok Monocorri Monocorri No No Non ha visto niente Non è successo niente Probabilmente c'è il pavimento che scricchiola Oddio Ho in mano un coltello Signora Lei ha un udito veramente incredibile Ha sentito la porta che scricchiolava E subito sospetta che ci siano creature nella stanza Oh no Allora cerchiamo di stare bassi E evitiamo di farci vedere Che sta facendo signora Ah sta ricomponendo il corpo umano Utilizzando pezzi veri probabilmente No 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 Corri 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 Mi ero bloccato per una frazione di secondo Ammetto che l'ho tentato di ciurargli il pezzo mancante L'avrei fatto andare fuori di testa Oddio Pino zeppo di parti letteralmente dovunque Salta 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 piano Ok ci dà le spalle per fortuna C'è un piede qua dentro Vai mono Vai mono Vai mono Ok dove hai sentito cose Credo che posso aver sentito cose Forse no 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 Ok 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 Non ho sentito nulla Uh Per una frazione di secondo ho temuto il peggio Mono Mono vai dentro Olè E qua nei condotti siamo sempre al sicuro Lo avevamo detto anche con Con il bidello Ma alla fine metteva le mani nei condotti Quel vecchio spervertito Oh no Di nuovo il martello Il problema del martello È che ti richiede di avere un tempismo Veramente Oh oh Assurdo Ok no 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 Mi sono bagato male Mi sono bagato male Aspetta un secondo Ok tentativo numero due Mi è venuta anche una mezza idea Se io faccio rumore Dovrei attirare l'attenzione della ragazzina E così lei dovrebbe attivarsi la trappola E se la piglia in pieno sulle gengive E killer sorpresa Ok Ok la mia tattica ha funzionato Aspettiamo che adesso arrivino gli altri Riboni Da deboni Ok Cerchiamo di indietreggiare Si sa mai Signorina salve Stavo aspettando lei Ma stai buona Ok Fatta fuori anche questa Oddio Ok Continuiamo ad avanzare Dobbiamo assolutamente trovare Six E liberarla È una mia impressione O sembro l'omicida Che sta facendo una strage All'interno della scuola Sembro il cattivo della Situazione Ragazzi Siete stati bocciati Mi dispiace Siete rimandati a settembre Ok Continua ad avanzare mono Oddio Se solo Se anche uno solo di loro Mi fa fuori È finita Devo rifare tutto al capo Piccolo bastardo No no L'ho mancato L'ho mancato Ok Ripreso Perfetto Datemi un secondo Datemi un secondo Ok 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 Troppo panicume Escono dai fottuti armadietti Facciamo attenzione a non prenderci le trappole Beh lì c'è chiaramente una trappola Si noto lontano un chilometro Attivala Ok Pensavate di sorprendermi Lo siamo finiti nel bagno Ehi Quella è Six Che stai facendo? Che stai facendo? Ti bulli di me Ti bulli di me Porca di quelli per porca Ti insegno io a bullizzare Ok Ok Six Six Sono venuto ad aiutarti Dal mio secondo È stata una giornata difficile Ma sti ragazzini sono fuori di testa Mettigli la testa nel gabinetto Vedi che si riprende subito Uh Questa parte è stata veramente tanto ansiogena Va tutto bene Peraltro io devo ancora capire se effettivamente questo sia un prequel In teoria Gli eventi del 2 avvengono prima dell'1 Se avete visto il finale dell'1 sapete che Ci sarebbero degli elementi per quanto riguardano Six Molto evidenti Ma vabbè stagli Ok Direi che possiamo proseguire Ehi Six mi dai una mano con la finestra Perché è mezza bloccata Ok A posto Il problema è che non abbiamo ancora sconfitto la maestra Il che vuol dire che molto presto la dovremo incontrare Oh no E mica la tavola non si rompe Peraltro quanto poi è grande sta cavolo di scuola Oh Non è finita Ho trovato un gigantesco pianoforte Attaccato ad una corda No Aspetta un secondo C'è effettivamente Una manopola Che possiamo girare all'occorrenza E che ci permette di sollevare Il suddetto pianoforte Ah Oh Credo di aver capito Lo dobbiamo mollare di colpo In modo tale da sfondare il pavimento Oh Ok 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 Non era previsto In fin dei conti E' accaduto esattamente quello che immaginavo Perfetto Perfetto Posso anche suonare Guardami sono bravissimo Ok Basta far boiate ragazzi Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare Allora Salire la corda non ha senso A sto punto Oh Ok Decisamente Molto Meglio Oddio Reggetevi a qualcosa Perfetto Direi che potrebbero averci sentito Ma giusto un attimino Allora da questo lato c'è una porta chiusa a chiave Quindi dobbiamo trovare La suddetta chiave Dobbiamo passare attraverso Quell'apertura là sopra Allora aspettiamo che Six Ci faccia scaletta Con la mano E Olè Non muori brutti Quella ragazzina Sembra avere la chiave Ok Però come Come faccio Allora fai piano ciccio Non farti vedere Le facciamo un kinder sorpresa all'improvviso Dove sta andando Six Che sta facendo Ah sta tirando l'attenzione della ragazzina Brava Six Brava Six Mono tu prendi il tubo E anche alla ragazzina qui facciamo un bel Kinder sorpresa Perfetto Ok Brava Six Ok non me l'aspettavo È stata veramente geniale Vediamo di sollevare la grata Dammi la mano ciccia E Olè Ah a posto Ok Ah tutto bene Quel che finisce bene Recuperiamo la chiave E siamo a posto Aspetta un attimo C'è un altro ragazzino in questa stanza Allora facciamo molto piano E evitiamo di farci individuare Ok devo prendere il martello Prima che si accorga Six Non avvicinarti che pericoloso Ok Martello ho preso Oh Oh L'ho aggredito a mani nude Six che stai facendo Ecco che arrivò Ecco che arrivò E No l'ho mancato L'ha fatto fuori lei a mani nude Oh Brava Six Ok Oh no Six ha capito che dentro di lei Ci potrebbe essere un piccolo assassino In fin dei conti Va Tutto bene Six Six Vieni forza dai Ok cerchiamo di proseguire Fai finta di nulla Ho fatto una strage incredibile anch'io Per venirti a salvare Allora dobbiamo arrivare là sopra Oh brava Six che intanto mi sta facendo scaletta con le mani Il problema è che Come faccio a far salire anche lei? Aspetta forse possiamo buttare di sotto sta scatola Six Occhio vorrei evitare di essere io la causa della tua morte E lei può utilizzare tranquillamente gli schiaffali per salire Ottimo E Ciccia mi serve una manina A quanto pare la ruggine ha fatto il suo lavoro Ok Six vieni che ti faccio conoscere la maestra È una donnina veramente tanto simpatica e a modo Sono sicuro che ti piacerà un sacco E Guarda un po' chi c'è La maestra a quanto pare fa anche la musicista Allora dobbiamo arrivare dall'altra parte E ho la vaga impressione che dovremmo calare Questa Questo strano supporto qua sopra Piano ciccio Ok E cerchiamo di star bassi e non facciamo rumore Questa tavola avrebbe potuto attirare la sua attenzione in effetti Si ho notato bene di tanto in tanto Fa delle pause come potete vedere Il che vuol dire che se facciamo rumore in quel momento Di sicuro ci noterà tantissimo Ok Credo che suoni almeno per una quindicina di secondi Ok mi sono fermato anche preventivamente Si sa mai Non mettiamo fretta Cerchiamo di sopravvivere che non sarebbe male Ok Petta 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 Ok devo tenere ferma la piattaforma Così Six Può passare Oh la piattaforma resta ferma Ah la piattaforma resta ferma lì Perfetto Piano Ora dobbiamo trovare un modo Per risalire là sopra Il problema è che Oh oh Io sono sceso da lì Ah credo che dobbiamo spostare Questo cavolo di scabello O come si chiama O come si chiama Le ruote ciccolano Le ruote ciccolano Correte tutti e due, veloci ragazzi Veloci Non ho sentito niente, non ho sentito niente Oh, oh, quello sta per far rumore Corri No, 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 no Tutto a posto, tutto a posto Ok No Corri, 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 corri Corri No, no, ragazzi Mai, mai nella vita Mai nella vita Mai nella vita Mono, Mono, corri Mono Oddio, è sotto di noi È sotto di noi No, ma mi prendi in giro Ma cos'è? No, signora Signora, lei c'ha problemi grossi, eh Oh, di certo non soffri di torcicollo Corri, 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 corri Corri No Oh, 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 oh Ok, ok No, ragazzi Mai più Mai più Sì, vabbè Ma quanto gli si allunga il collo a sta donna Ok Ragazzi No, io vi giuro Io fermo l'episodio qua Sto tremando Vi giuro Sto tremando Ragazzini Com'è possibile che voi due siete ancora vivi? Ammetto Questa seconda parte è stata veramente bellissima Mono, ce la fai uscire, ragazzo mio? Gente Che dire Ancora una volta un episodio fantastico per questo Little Nightmare 2 Non so quanto sarà lungo Spero il più possibile Anche se sapete molto bene che sto gioco di solito Non ha una longevità eccessiva Dannazione Sta letteralmente diluviando qua fuori Gente Allora Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate Mi raccomando Niente spoiler Lasciate un bel mi piace per continuare la serie E noi ci vedremo nel prossimo episodio Se non moriamo di reumatismi o di broncopolmonite prima Ciao ciao